Eccoci qua, di nuovo, fra di noi, fra i mostri, vediamo un po' di orrori anche quest'oggi ragazzi. Allora Paolo è chiaro, Paolo, scusa, Paolo è chiaro, è chiaro, e hanno le scintille qua, tutte scintillanti. Ah non mi dicono che non si chiamano scintille, si chiamano brillantini, questa roba qua. Ho un po' di plastica in faccia, poco poco però, vediamo, poco poco plastica c'è qua. Eh no, questo è il tipo che dirige, Paolo e Chiara, e gli hanno messo le scintille pure a lui. Che uomo, che dì, vediamo un po' in dettaglio i soggetti, ragazzi oggi siamo fortunati perché non ce ne sono molti di mostri, a me ce ne sono pochi ma buoni, pochi ma buoni, pochi ma buoni. Questo è Paolo ragazzi, ecco quelli che hanno occhi da vedere, vediamo Paolo durante i lavori di restauro. Ma che orrore, cazzo. Eh, devono, devono fare questi ritocchi ragazzi perché, perché essendoci un altro mostro dentro, devono coprirlo, la struttura è quella di un uomo diciamo, e quindi devono fare questi. Poi, a livello di propaganda c'è stata poca roba, diciamo, c'è stato solo questo clown qua, Grignani, che ha fatto, ha mostrato questa maglietta, per il resto poca roba. E poi veniamo al pezzo forte di questa serata ragazzi, il pezzo veramente forte, il pezzo, ragazzi, bisogna avere lo stomaco forte adesso, eh. Poteva mancare una negra al Sanremo ragazzi, per parco indice, no? No, ovviamente no. Una negra, scusate, un negro diciamo. Andiamo avanti, diamo un po' di dettagli, che ci possono interessare. Io, porca droga, mi stavo preoccupando per Gianni Morandi, c'è, porca droga, c'era questo mostro, Cioè io avevo paura per lui cazzo C'è una roba così Te si avvicina e te guarda Porca troia un mostro cazzo Censuriamo cazzo Censuriamo Censuriamo cazzo Censuriamo Nel novembre 2018 In un intervista quotidiana Fa coming out Rivelando di essere fidanzata Con una ragazza E te credo Che l'ha consolata A seguito della sconfitta Al campionato mondiale Come l'ha consolato Sto diventando filporro La ragazza in questione Si regala poi Essere questa qua Ecco Ecco Ma adesso imparciamo ragazzi Dove è Gru? Guarda che roba cazzo Cioè se già Questa qua era alta Pensa che cazzo è quest'altro Che scena cazzo Mi dice A me piacciono le persone Il genere Conta poco Non mi chieda Non Non mi chieda Se è un uomo O una donna Non ha importanza Sono innamorata Il legame fra i due Si è concluso Dopo pochi giorni Sempre il negro Onoreficienze Il negro qua è Cavaliere Ordine Ordine al merito Della Repubblica Italiana E qui vediamo La croce dei Teplari Bellissima La nostra Italia Zombie Zombie L'iniziativa del presidente Della Italiani Siete razzisti Siete cattivi Dovete morire Io sono la povera negra Della Nigeria Perché non mi amate Mio padre era un semplice camionista Mia madre è un infermiero Non sono freddile Come dice Marcel Wink Sono una poveraccia Ho visto Mila e Shiro In televisione Ho fatto Pallavolo Anche tu puoi farcela Poi a un certo punto A Sanremo Prevenzione Quindi Screening Screening Portare le pecore A farle ammazzare All'ospedale Ok A questo serve Lo screening Il rettile Che si inventa Che come col coglione Che tu hai qualcosa Che non va E ti ammazza Queste Quindi Amadeus Sanremo Larai Con i vostri soldi Vi sta chiamando Per uccidervi Mordi Schifosi Poi c'è stata Analisa 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 A mezzanotte Stava parlando Con questi altri Fatti di cocaina Nel cielo Vestita così Vabbè I rettile Hanno questi poteri Io adesso Il giorno Non sono tutto coperto Mi sto gelando Ho appena visto Nel culo Però anche a Sanremo A mezzanotte Sono sicuro Che stavano sotto zero Analisa Risiede a Savona E' vegetariana Anal Sostenitrice Dei diritti Di animali Ricordo ai morti Che quando Tra poco Il rettile Il rettile Tra Diritti agli animali Tu non potrai più Mangiare animali Solo insetti L'insetto Non è un animale Ok Per fortuna Questa è stata Un'edizione corta La terza serata Ricordo che Da adesso in poi Sarà difficile Per me Fare le prossime serate Però cercherò di farle Comunque Ciao